Salve a tutti, oggi facciamo la recensione dell'azienda Giorgio Grysan and Friends, è un'azienda che commercializza prodotti decorativi in Italia e dall'estero, questo è il sito di internet, è giorgiogrysanandfriends.it e il prodotto di punta è sicuramente spatola stucchi che è uno stucco decorativo a calce, poi ha anche altri decorativi a calce che sono spiro libero ed anche altri decorativi, un altro decorativo che è seguito estinto che ora qui non trovo, eccolo qua, scampionari seguito estinto, un prodotto decorativo a calce diciamo più a spessore rispetto a spatola stucchi che ha un effetto stucco veneziano, spirito libero ha un effetto sempre un stucco a calce ma granuloso, mentre invece seguito estinto è un decorativo a calce molto materico, quindi con un alto spessore di stucco. questa società oltre a questi prodotti decorativi a calce commercializza anche altri prodotti come la casa dei sogni, trasparente, colore neve, colore gioia e white paint e sono tutti questi decorativi, la casa dei sogni è un decorativo ad effetto invecchiato, trasparenze è una sorta di velatura, colore e neve ha un effetto brillantato, ha una sorta di brillantini sulla sua superficie, colore gioia e white paint sono dei perlescenti, colore oro anche un perlescente con, ovviamente lo dice il nome stesso, è un decorativo dorato, sono presenti le schede tecniche ovviamente e di sicurezza online, questa società mette a disposizione tra le altre cose i video su youtube, il forum, la pagina facebook, questo altro sito che è come decoratori inserirvi e come utenti andare a reperire il vostro decoratore a seconda della vostra città, della vostra zona, della vostra regione e è un'azienda che tra i suoi punti di forza ha sicuramente i tecnici che sono sempre a vostra disposizione, che potete chiamare in qualsiasi momento al numero verde e sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi cosa per quanto costano i prodotti, per quanto per problemi tecnici o anche per domande relative a chi vi sta applicando il decorativo a casa vostra. È un'azienda che nel complesso consigliamo e l'unico punto che forse secondo me è negativo è il fatto che questa ditta non ha prodotti bio edili, quindi prodotti ecologici sì, ma prodotti bio edili non ne troverete in questa azienda. A presto per altre recensioni. Grazie a tutti.